In questa presentazione vediamo qual è la lingua del computer. Il computer è in grado di comprendere solo due stati, acceso e spento. Questi due stati sono rappresentati con 1 e 0. Questa lingua del computer, composta da un alfabeto di soli due simboli, è chiamata lingua binaria. Per capire meglio il sistema binario ricordiamo brevemente come funziona il sistema numerico utilizzato dagli esseri umani. Il sistema decimale. Il sistema decimale è basato appunto su 10 cifre decimali. Usiamo il sistema decimale perché noi uomini possediamo 10 dita e quindi ha senso per noi contare in gruppi di 10. Con il sistema decimale contiamo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quando arriviamo a 9 abbiamo bisogno di due cifre per formare il numero successivo. E quindi utilizziamo le due cifre 1 e 0 per il numero 10. Poi abbiamo 11, 12, 13, 14, 15 fino a 99. Giunti a 99 ci occorrono 3 cifre per formare 100 e così via. Il sistema binario funziona con la stessa logica ad eccezione del fatto che adesso abbiamo solo due cifre e non 10 come nel sistema decimale. Iniziamo con 0, poi con 1. Non abbiamo più cifre. Per questo dobbiamo usare due cifre per i numeri successivi. 1, 0, 1, 1. Avendo esaurito tutte le possibilità dobbiamo usare tre cifre per i numeri successivi. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Abbiamo finito tutte le combinazioni. Necessitiamo di quattro cifre per i numeri successivi. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e così via. Perché abbiamo introdotto il sistema binario? Perché tutte le informazioni sono codificate in binario, dai testi alle canzoni, dai video alle immagini. Inoltre per comprendere ed utilizzare le unità di misura in informatica la conoscenza del sistema binario risulta fondamentale. Vediamo come i computer archiviano i dati. I computer utilizzano il sistema binario il cui alfabeto è costituito dai soli due simboli, 0 e 1. La parola utilizzata per queste due cifre binarie è il bit, ricavata dalle due parole inglesi binary digit, e rappresenta la quantità minima di dati memorizzabile in un computer. Con questi 0 e 1 possiamo memorizzare vari tipi di informazioni, dai documenti di testo, ai colori di un'immagine, ai suoni prodotti dalle cuffie. Per archiviare questi tipi di informazione usiamo un insieme di bit. Il numero di bit memorizzabili su un dispositivo determina il numero delle informazioni che possiamo archiviare. Ora, 8 bit messi insieme formano un byte. Un byte rappresenta la quantità di spazio necessaria per memorizzare una singola lettera o un singolo simbolo in un documento di testo. Quindi, se scrivo al PC un breve testo di 185 caratteri, occorrono 185 byte di spazio di archiviazione. Se mettiamo insieme mille byte, otteniamo un kilobyte, indicato con KB maiuscolo. Per essere più precisi, un kilobyte è uguale a 1024 byte, perché i computer usano il sistema binario e tutte le unità di misura devono essere espresse come potenze di 2. Per il momento non importa essere così precisi. L'unica cosa che devi capire è che un kilobyte equivale a circa mille byte, ovvero a mille caratteri, come un chilometro equivale a mille metri e un chilogrammo a mille grammi. Tanto per darti un'idea, con un kilobyte possiamo memorizzare circa due pagine di testo. Negli anni 70 si usavano i floppy disk da 5,25 pollici, capaci di memorizzare 360 kilobyte di informazione. Mettendo insieme mille kilobyte, per la precisione 1024 kilobyte, otteniamo un megabyte, indicato con MB maiuscolo. Con un megabyte possiamo memorizzare circa cinque libri, oppure una foto, oppure un minuto di musica. Questo è un floppy disk da 3,5 pollici che si usava negli anni 80 in grado di memorizzare 1,44 megabyte di dati. La capacità di memorizzazione di questo dispositivo era sufficiente negli anni 80, in quanto i file non erano molto grandi. Mettendo insieme mille megabyte, per la precisione 1024, otteniamo un gigabyte, indicato con GB maiuscolo. Con un gigabyte possiamo memorizzare circa 400 libri, oppure mille foto, oppure possiamo sentire ininterrottamente 16 ore di musica. A metà degli anni 90 potevi comprare un hard drive da un gigabyte per un paio di centinaio di dollari. Oggi invece puoi comprare una flash drive sempre da un gigabyte con meno di 5 dollari. Mettendo insieme mille gigabyte, in verità 1024, otteniamo un terabyte, indicato con TB maiuscolo. Con un terabyte abbiamo spazio sufficiente per memorizzare più di 400.000 libri che corrispondono a circa 30 librerie scolastiche, oppure un milione di foto, oppure a due anni di ascolto di musica continuativa. Oggi è possibile comprare un hard drive da un terabyte per meno di 50 dollari. Riepilogando. L'alfabeto è un insieme finito di simboli. Questi simboli formano le parole di una lingua. i computer utilizzano il sistema binario il cui alfabeto è costituito dai soli due simboli 0 e 1. La parola utilizzata per queste due cifre binarie 0 e 1 è il bit, ricavata dalle due parole inglesi binary digit e rappresenta la quantità minima di dati memorizzabili in un computer. Il vantaggio del sistema binario è che usando solo due cifre può essere compreso dal computer. Infatti, lo 0 rappresenta lo stato spinto, non passa corrente, e 1 lo stato acceso, passa corrente. Con questi due soli simboli possiamo memorizzare vari tipi di informazione. Il numero di bit memorizzabili su un dispositivo determina il numero delle informazioni che possiamo archiviare. I dati sotto forma di bit possono essere memorizzati in maniera permanente in dispositivi di memoria di massa quali l'hard drive, l'hard disk a stato solido, la pen drive, la micro SD card, oppure possono essere memorizzati temporaneamente sulla RAM, sulla memoria cache, sui registri interni della CPU. 8 bit messi insieme formano un byte. Con un byte possiamo memorizzare una singola lettera o un singolo simbolo o un singolo numero. Mettendo insieme 1024 byte otteniamo un kilobyte. un kilobyte è uguale a 2 alla 10 byte, essendo 1024 uguale a 2 elevato a 10. Ricordati la tecnica di memoria. Maradona vestito da Babbo Natale alla vigilia. Con un kilobyte possiamo memorizzare circa mille caratteri, ovvero circa due pagine di testo. Mettendo insieme 1024 kilobyte otteniamo un megabyte. Un megabyte è uguale a 2 elevata a 20 byte. Con un megabyte possiamo memorizzare circa un milione di caratteri, ovvero circa 5 libri oppure una foto o un minuto di musica continuativa. Mettendo insieme 1024 megabyte otteniamo un gigabyte. Un gigabyte è uguale a 2 elevata a 30 byte. Con un gigabyte possiamo memorizzare circa un miliardo di caratteri, ovvero circa 400 libri oppure 1000 foto oppure 16 ore di musica continuativa. Mettendo insieme 1024 gigabyte otteniamo un terabyte. un terabyte è uguale a 2 elevato a 40 byte. Con un gigabyte possiamo memorizzare circa 400.000 libri, circa 30 librerie scolastiche oppure un milione di foto oppure due anni di musica continuativa. mettendo insieme 1024 terabyte otteniamo un petabyte. Un petabyte è uguale a 2 elevato a 50 byte. E con questo ci fermiamo qui. Ora metti in pausa e memorizza, però ricordati di applicare la tecnica di memoria chi mai gioca tanto presto con i byte. Esercizio. Ferma il filmato, prendi carta, penne calcolatrice e fai le seguenti conversioni. Questa è la soluzione dell'esercizio proposto. Facciamo un altro esercizio. Ferma il filmato, prendi carta, penne calcolatrice e fai le seguenti conversioni. questa è la soluzione dell'esercizio proposto. Ultimo esercizio, ferma di nuovo il filmato, prendi carta, penne calcolatrice e fai le seguenti conversioni. Questa è la soluzione dell'esercizio proposto. Spero che tu li abbia fatti tutti e tre.